Un saluto a tutti gli amici del Campaccio, sono Franco Fava, vincitore di tre edizioni del Cross del Campaccio negli anni 70. La prima edizione risale a 45 anni fa nel 76, bis nel 77 e tris nel 78 in un'edizione che ricordo ancora oggi molto bene fu abbastanza travagliata perché sulla carta in realtà vinse Venanzio Ortis che fu autorizzato a partire dall'ultimo momento dopo qualche bisticcio con i giudici essendo lui squalificato in quel periodo per problemi societari. Ne derivò anche qualche siparietto curioso di quell'edizione con l'allora telecronista e mai dimenticato Paolo Rosi, una gara che comunque mi è rimasta nel cuore perché vince la tre volte consecutive su un percorso e con un tempo da lupi, un percorso dove ricordo ancora c'era un ponticello da passare che insomma si rischiava di rimanere incastrati, impantanati in un fango con le sterpaglie del Gran Turco che tagliavano i piedi se non stavi attento con quei campi che erano non ancora arati in un'edizione, non ricordo bene se fosse quella del 75 o del 76 addirittura con la neve ed era per me in quegli anni 70 un appuntamento stabile, fisso quello del campaccio perché io da lì poi me ne andavo con la mia due cavalli su all'ivigno ad ossigenarmi, a fare il solito periodo di allenamento in quota che già allora si facevano negli anni 70 e anche d'inverno con i miei sciti fondo. La prima esperienza del campaccio risale addirittura nel 72 quando vinsi da junior, quindi l'amore per il cross che ho sempre avuto insieme anche alla partecipazione frequente con la Cincomolini mi ha sempre legato a questa classica internazionale anche perché quando vinsi nel 77 fu il preludio ad una stagione mia storica per quello che mi riguarda perché è ancora segnata da tutti i record italiani fatti in quell'anno lì dai 3.000 piani ai 10.000 metri e poche settimane dopo quel successo al campaccio conquistai un quarto posto al mondiale di cross di Dusendorf che ancora oggi rimane il miglior piazzamento dell'italiano. Quindi mi auguro che la tradizione del campaccio possa continuare a crescere anche in quest'anno in cui la pandemia ci ha costretto a modificare e rivedere tutti i calendari. Spero di esserci a marzo con molto piacere e rivedere un po' da lontano tutta una storia, una carrellata di grandi campioni che hanno fatto grande questo cross che è unico al mondo insieme ad altri pochi rimasti in una fase in cui si torna a parlare del ritorno delle Olimpiadi del cross nel programma olimpico cento anni dopo l'ultima apparizione a Parigi 1924. Buon anno a tutti gli amanti del cross, dell'atletica e tanti auguri al cross del campaccio all'Unione Sportiva San Giorgese. Grazie. Grazie. Grazie.